Sei sola. Tu non sai quanto. Sei invischiato in questa faccenda. Non si fermeranno. Tu hai una testa come la mia, che rigira sempre le cose. In molti lo chiamano dono, ma è comunque un disturbo del cervello. Un noir con un protagonista affetto da Handicap. Questo rende il film speciale e anche le dà una grande possibilità di interpretarlo. Che ne pensa? I think all those things are true. Sì, è vero. È questo che mi ha spinto a dirigere e a interpretare questo film. Ho fatto un grande lavoro. Ci sono voluti anni per preparare questo film. È un grande personaggio, ma anche un'opportunità di entrare in qualcosa di più. Raccontare New York e anche tanti temi importanti è stato un progetto pieno di cose dall'inizio. È lei. È la ragazza che Frank seguiva. Lei ha scoperto qualcosa. Quello che succede ai poveri non interessava ieri e non interesserà domani. Dove vanno tutti? Spariscono e basta. Questa città è in mano a Moses Randolph. C'è il gioco di potere, la questione dei neri, gli abusi edilizi. Oggi le cose sono diverse. Non lo so. Ma certo, la discriminazione razziale e gli abusi di potere sono una realtà anche oggi. Le rivolte che vediamo in America lo dimostrano. L'ignoranza resta. Tutto sembra più calmo in apparenza. Ma sotto sotto i problemi sono gli stessi. Hai la minima idea di come funziona il potere? Il potere è sapere che puoi fare tutto quello che vuoi e nessuno ti fermerà mai. Certo, c'è in America, ma anche in Inghilterra, in Ungheria. E persino in Italia. C'è la sensazione che, malgrado il progresso che viviamo, si torni sempre indietro. È scioccante scoprire che certi impulsi, certe tendenze, sono sempre gli stessi del passato. Pensavamo di essercelo lasciato alle spalle, ma non è così. Si sono raccolti benissimo a Roma. E' bellissimo essere qui. Roma e l'Italia sono sinonimo di cinema. L'attenzione che c'è qui per il cinema non la trovi da nessun'altra parte del mondo, neppure a New York.